Il decreto interviene con due norme, il 17 e il 21, sulle funzioni della Corte. A nostro avviso interviene malamente e invece di aiutare le imprese cittadini in questo momento di difficoltà economica a peggiorare la situazione. In particolare l'articolo 21, il punto fondamentale, per un anno impedirà alla Corte dei Conti di recuperare i soldi spesi male ai dipendenti con colpa grave, cioè significa con particolare negligenza e con eccessiva spregiudicatezza e violazione delle regole. Il governo avrebbe avuto l'occasione buona per rendere più chiaro il mondo delle norme italiane, invece si è limitato a dire ai dipendenti pubblici che anche in caso di mancata attemperanza alle norme non avrebbero corso alcun rischio. Come dire, invece di curare la febbre si rompe il termometro. Noi siamo preoccupati perché in un momento di difficoltà economica è fondamentale che si spenda bene, che si spenda con oculatezza. Senza la paura della responsabilità rischiamo di selezionare la classe dirigente peggiore, di non aiutare i migliori dirigenti pubblici a farsi valere, di trovarci tra qualche anno un cimitero di opere magari incompiute, magari inutili e Dio non voglia, magari instabili o che potrebbero anche crollare. La norma tra l'altro ha notevoli difficoltà e criticità tecniche, il più importante la norma potrebbe essere a rischio di incostituzionalità. Poi non dimentichiamo che ogni anno la Corte dei Conti recupera circa 500 milioni di euro e la metà dei quali sono soldi che sono di provvedenza comunitaria. Quindi è un grosso problema di rinunciare a questi soldi. Qualche giorno fa, mi permetto di citare le parole dell'ex governatore della BCE, si è parlato di un debito buono e di un debito cattivo. Un debito cattivo è il debito che finanzia spese inutili, improduttive. Il debito buono è il debito che finanzia spese improduttive. Mi permetto di dire che tutto il debito diventa cattivo se non si vigila su come vengono spesi questi soldi. Spendere male questi soldi fa sì che anche le migliori intenzioni che il Parlamento, il governo dovessero avere, potrebbero essere disattese e con una spesa assolutamente inutile. Diciamo che questo decreto, per quello che ci riguarda, deresponsabilizza, ma non semplifica nulla. C'è da dire che molti comuni in questa fase erano anche vicini al risanamento e dunque bloccarli blocca anche la possibilità di potersi risanare. E non dimentichiamo che tenere aperte il risanamento impedisce ai comuni di pagare i debiti verso le imprese. Quindi in qualche modo si salvano i comuni e si sacrificano le imprese private. E questo è l'unico punto di contatto fra le due norme. In tutti e due i casi vediamo un'attenzione a salvare un po' la situazione della pubblica amministrazione a danno dei cittadini. E questo crediamo che non sia la cosa giusta da fare in questo momento.